I residenti di via Pavirani hanno scritto al sindaco per ottenere l'istituzione di una zona a 30 km orari la diminuzione del numero di mezzi circolanti nella piccola strada delle ore di punta di ingresso e uscita da scuola. In via Pavirani infatti insistono l'omonimo asilo nido che verrà ricostruito e ampliato grazie ai fondi del PNRR, la scuola dell'infanzia Buon Pastore, la scuola elementare Torre e la clinica Domus Nova con asilo privato annesso. Via Pavirani poi è frequentemente utilizzata da quei mezzi che da via Maggiore raggiungono la zona di via Vicoli, il quartiere Nullo Baldini o l'area decente, il Santa Maria delle Croci. Regolarmente quindi la strada è attraversata a un numero elevato di mezzi. Nella lettera presentata al primo cittadino i residenti denunciano una velocità eccessiva dotata dagli automobilisti in transito e quindi un pericolo per la sicurezza di chi in via Pavirani vivive ma anche appunto per tutte quelle famiglie che vi si recano per portare i figli a scuola o all'asilo. Contemporaneamente trovare un posto auto libero in via Pavirani sembra essere un'impresa ardua. L'area parcheggio infatti della Domus Nova non sembra ormai più adeguata ai flussi di pazienti che si recano alla clinica privata accreditate col sistema sanitario nazionale e spesso molte delle persone che si servono dal presidio sanitario sono costrette a parcheggiare in via Pavirani o nelle vie limitrofe. I sette posti auto vicino alla scuola regolamentati con disco orario e sosta limitata a 30 minuti sono di fatto una rouletta a cui molte famiglie giocano quando portano i figli degli istituti in auto ma in caso di sconfitta le auto vengono poi lasciate in divieto di sosta o peggio di fronte ai numerosi garage della zona. Via Pavirani infatti è ricca di abitazioni dotate di garage a accesso diretto sulla sede stradale. Da una parte l'abbondante presenza di garage diminuisce gli spazi in strada per zone di sosta, dall'altra spesso però ai residenti si ritrovano le uscite dei garage ustruite da qualche veicolo parcheggiato. D'altronde non tutti i garage sono accompagnati da un regolare passo carrabile autorizzato dal comune di Ravenna. Molti proprietari infatti hanno deciso di non avvalersi del diritto che però comporta anche il pagamento di un'imposta. Tuttavia una sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la violenza privata e gli automobilisti che parcheggiano di fronte agli accessi delle abitazioni ma nel caso in cui impediscono con i propri mezzi parcheggiati gli inquilini di entrare e uscire di casa. Per cercare comunque di limitare queste dinamiche di parcheggi selvaggi i residenti di via Pavirani, molti anche anziani, hanno quindi chiesto inoltre al comune di Ravenna di limitare l'accesso delle auto negli orari di entrata e uscita delle scuole incentivando il piedibus per la scuola elementare e di ampliare il parcheggio dell'asilo Pavirani oggi a disposizione solo dei lavoratori. Infine la richiesta di un'installazione di una centralina arabe per monitorare i livelli di inquinamento.